altre cripto valute ma perché allora io scherzo bitcoin rappresenta oro digitale cioè l'idea della scarsità in ambito digitale i 1.400 cloni di bitcoin sono per la gran parte senza alcun valore tecnico senza alcun merito logico senza una proposizione significativa ce ne sono alcuni pochi che hanno un qualche senso il più famoso è probabilmente ethereum ethereum vuole essere una specie di grande computer globale dove le computazioni sono incensurabili se bitcoin è trasferimento di valore incensurabile ethereum è una computazione incensurabile ora se si chiede a me io non percepisco una grandissima utilità per le computazioni incensurabili percepisco una grande utilità per le transazioni di valore incensurabili ethereum è sicuramente il contendente numero uno al trono di bitcoin poi ce ne sono altre non so litecoin è molto simile a bitcoin è una specie di rete di test dove le modifiche che poi magari in futuro arriveranno su bitcoin vengono provate in anteprima monero e zcash ma soprattutto monero direi sono criptovalute che hanno una privacy superiore a bitcoin anche qui si tratta di prove di test di campi di verifica dove tecniche criptografiche più evolute potranno domani essere aiutate essere adottate da bitcoin abbiamo infine forse ripple che è un po' la forma di criptovaluta simpatetica al sistema finanziario internazionale è ovviamente una contraddizione in termini una criptovaluta nasce per essere decentralizzata ripple è totalmente centralizzata insomma da un certo punto di vista io sono critico anche nei confronti di questi 4-5 esempi che ho fatto e credo che sono gli unici meritevoli di attenzione il resto è veramente ciarpame in particolare io sono sempre molto critico sull'applicazione che si è fatta finora anche delle SEO le initial coin offering cioè questi token, questi gettoni messi da imprenditori alla ricerca di finanziamenti tipicamente sulla piattaforma Ethereum dove le computazioni incensurabili permettono l'invenzione di questi contratti di questi token ma sono abbastanza scettico, è un po' il rumore, fa parte a mio avviso tutto questo mondo del rumore e della confusione che c'è attorno appunto alla corsa all'oro digitale magari qualcosa di complementare a bitcoin sopravviverà non sono peraltro neanche argomenti da un certo punto di vista che mi entusiasmano perché io sono entusiasmato dall'11kio dell'oro grazie 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 grazie